Ciao amici, benvenuti su Koala Chef. Oggi prepariamo insieme questo delizioso dolce che ho deciso di chiamare lasagna di Oreo. Quindi non perdiamo tempo, preparate tutti gli ingredienti che trovate nella descrizione e venite in cucina insieme a me. Iniziamo a preparare il budino al cioccolato. In una pentola versiamo il latte e lo zucchero. Facciamo scaldare e intanto aggiungiamo la farina mentre mescoliamo e il cioccolato. Facciamo addensare il tutto e lasciamolo raffreddare. Intanto prepariamo la base della nostra torta, quindi in un frullatore aggiungiamo i biscotti Oreo. Frulliamo finché i biscotti non diventeranno una polverina. Mettiamo tutto in una ciotola, facciamo sciogliere il burro e lo aggiungiamo. Mescoliamo fino a quando non diventa una pasta granulosa. Versiamo tutto in una teglia, lo schiacciamo bene sul fondo e quando diventerà ben compatto lo mettiamo dentro al frigo a raffreddare. Ora passiamo alla preparazione della nostra mousse, quindi in una planetaria, se volete potete anche utilizzare lo sbattitore elettrico, aggiungiamo lo zucchero, la panna e l'essenza di vaniglia. Montiamo la panna fino a quando non raggiunge questa consistenza. Aggiungiamo il formaggio spalmabile e lo montiamo per un altro minuto insieme alla panna, non di più perché altrimenti si smonterà. A questo punto possiamo formare il primo strato del nostro dolce e quindi andiamo a versare la mousse sui biscotti sbriciolati, in questo modo. Una volta raffreddato aggiungiamo poi il budino al cioccolato, mi raccomando non versatelo quando è ancora caldo. Adesso formiamo l'ultimo strato della nostra lasagna dolce e quindi andiamo a mettere un altro strato di mousse. Spalmiamola bene fino a quando la superficie non sarà del tutto liscia. Per decorare la superficie io ho utilizzato un tarocco con le punte per formare le righe, voi potete utilizzare anche i rebbi di una forchetta. Per decorare la nostra lasagna possiamo utilizzare qualche biscotto oreo sbriciolato e versarlo sulla superficie della torta. Aggiungiamo infine qualche goccia di cioccolato e riponiamo il dolce nel frigo per almeno due ore. A questo punto potete servire la vostra lasagna e gustarla insieme ai vostri amici. Vi assicuro che questo dolce è golosissimo e freschissimo. Vi ricordo di aiutarmi a far crescere il canale mettendo like e condividendo questo video e vi aspetto per nuove ricette. Grazie! Grazie!